Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Logitech R700. Questo è un dispositivo per presentazioni professionali. Alcune delle sue caratteristiche sono quella di avere un raggio d'azione di 30 metri, un puntatore laser e la funzionalità plug and play, ovvero non occorre installare nessun programma ma basta inserire il ricevitore in una porta usb, che troveremo nella parte inferiore del dispositivo. Questo per il funzionamento necessita di due pile di tipo mini stilo. Il dispositivo si compone sulla sinistra dal tasto di accensione, sulla parte frontale oltre al display è composto da 5 tasti, di cui uno per accendere il laser, altri due per swippare da una slide dall'altra e gli ultimi due in fondo per avviare la presentazione e spegnere il display. Infine sulla destra ci sono due tasti che ci serviranno per impostare il timer, il quale avviso sarà susseguito da una vibrazione, dalla potenza a nostra scelta. Vi ringrazio per aver visualizzato questo video, vi invito ad iscrivervi al mio canale e noi ci rivedremo nel prossimo video.